Quindi un'altra problematica di fare le carte per se stessi è che poi bisogna essere pronti a quello che ti dicono, ai consigli che ti danno, cioè bisogna essere pronti a ricevere un no come risposta. Però nel momento in cui si fanno le carte per se bisogna accettare anche il fatto che potremmo anche decidere di fare quello che molti nostri consultanti fanno e cioè chiedere consiglio e poi non accettare il consiglio. Hanno sempre ragione loro, quindi alla fine testa bassa dovrai tornare dai tarocchi e dire sì ho capito allora cos'è che devo fare adesso?